Fa pensare che qualcuno abbia svolto un rito di un qualsiasi tipo in quel punto lì e di sicuro di notte è abbastanza fresco per cui non c'erano animali, il fagiano era fresco ecco quindi fa pensare che la gente la sera lì faccia delle cose strane. Dopo le croci nel mezzo del fiume gli altarini e le frasi bibliche scritte sui sassi adesso l'ombra dei riti satanici a buon riposo frazioni a pochi chilometri dalla città di Arezzo. Sulle rive dell'Arna è stato infatti ritrovato un fagiano sacrificato ucciso in modo cruente ed abbandonato con ancora il punteruolo con il quale era stato ucciso conficcato. Abbiamo trovato una croce a cinque punte con un animale, una femmina di fagiano morta lì con uno scalpello di ferro infilato dentro al petto con le candele, una scena piuttosto macabra. I residenti della zona da tempo segnalano anche un'altra misteriosa situazione, sarebbe infatti presente un santone sorpreso in più di un'occasione a pregare ed allestire altarini e croci sulle rive dell'Arno. Che nell'ultima settimana quel tratto d'Arno sia diventato meta di personaggi strani a questo punto qui è senza dubbio. Il macabro ritrovamento ovviamente adesso preoccupa i residenti della zona. Nessuno vuole iniziare una caccia alle streghe, però è chiaro che bisogna a questo punto qui andare fino in fondo.